E scusate, volete dirmi che amava di più il Napoli-Sarri di quanto ha amato lo Juventino Conte? Che giochino è? Sono stati amati tutti e due. Ma lei si è trara, meglio se non ci nomina a noi. Conte, quel signore là, quel signore là, che è andato all'Inter, è meglio se noi non ci nomina. Io ho stifato per lui quando lui era capitano, quando lui era capitano, io ho stifato per lui, io ho stifato per lui quando lui era l'allenatore della Juventus, io ho stifato per lui. Cesare, calmati, ho stifato per lui, vergogna, vergogna, io glielo farò pagare. No, Cesare, questo non è contento qui. Bisogna avere pazienza, bisogna avere pazienza, bisogna avere pazienza, ma non scherziamo, io non sto scherzando, ma sto scherzando, ma stiamo parlando di professionisti, sono professionisti Cesare, ma non scherziamo Cesare, ma non scherziamo Cesare, scusami Bettino, Cesare, ascoltami, queste cose non te le consento in trasmissione, già ti ammonisco, la prossima volta ti mando fuori, va bene tutto. Hai anche il cartellino giallo in mano. Sì, l'evidenziatore, devi stare tranquillo, poi ti agiti, ti vengono tutti i pressi, stai tranquillo. Io volevo solo specificare Federica che questa mia osservazione su cui insisto è... Non, né la...